Buona domenica a tutti ragazzi, ultima domenica di settembre, bentornati al solito appuntamento con le news della settimana il format del canale più amato da tutti coloro che hanno recuperato recentemente i Ghostbusters di Blitzway e dopo l'annuncio che è stato fatto ieri con la schedule di quelle che saranno le doll presentate dalla stessa Blitzway al Wonder Festival di giovedì e venerdì, starà bestemmiando tutto il creato, ma ne parleremo fra pochissimo adesso cominciamo con gli annunci, cominciamo da Casa Otois con quello che io ritengo essere l'annuncio un po' più inutile ovvero il Death Trooper tratto da Ahsoka, dalla serie tv di Star Wars Ahsoka abbiamo già visto uno Stormtrooper su questo genere, questa sorta di genere zombie che fa il suo debutto proprio nella serie Ahsoka con queste armature nere, con qualche riparazione dorata e i nastri rossi questa sarà una doll in edizione delimitata all'incirca 265 euro su Sideshow ancora sul sito di Otois non c'è probabilmente perché anche loro stessi la ritengono una doll piuttosto inutile io penso che sia una doll adatta ai completisti chi vuole tutte le doll ispirate a una determinata serie tv, un determinato film o qualcosa in questo caso appunto ad Ahsoka quindi secondo me è un prezzo trascurabile però se lo volete 2000 copie disponibili su Sideshow prezzo appunto non 265 ragazzi mi sbagliavo ma 250 euro e 65 andiamo subito avanti, passiamo alla roba un po' più importante qui abbiamo una release, la release di The Wasp da Antman and The Wasp Quantumania anche qui secondo me una release piuttosto trascurabile bello l'head sculpt anche se molti lo hanno già criticato definendo l'attrice un po' più invecchiata di quello che realmente è in questa doll comunque nulla di particolare anche da questo punto di vista ragazzi almeno quello che ho potuto vedere in questi giorni è che non ha interessato moltissimi il rilascio di questa doll quindi non mi ci soffermo più di tanto ragazzi se siete curiosi sito di Otois che a quanto pare è difficilissimo da trovare però sul sito di Otois c'è davvero di tutto passiamo invece all'annuncio uno degli annunci di cui abbiamo parlato anche in live che vi invito a recuperare ragazzi c'è stata la live praticamente mercoledì di questa settimana abbiamo parlato dei primi tre annunci che sono stati fatti nel giorno di lunedì ovvero Dr. Doom, Predator Samurai e Amazing Spider-Man di cui parleremo fra pochissimo qui cominciamo proprio dal Dr. Doom che secondo me è un piccolo capolavoro un Dr. Doom inaspettato perché nessuno si poteva aspettare che sarebbe stato rilasciato un annuncio del genere probabilmente Otois da una parte giustamente stava cavalcando l'hype che si è generato nell'ultimo periodo dopo l'annuncio che era di interpretare proprio il Dr. Doom nel film Marvel nel film Marvel che uscirà nel 2026 se non mi sbaglio sarà Robert Downey Jr. quindi si è generato proprio questo hype incredibile per questo personaggio che è già fighissimo di suo ed ecco qui appunto una doll dedicata, una doll ispirata al fumetto mi sorprende un po' il fatto che Otois non abbia lasciato le redini di questa doll ad uno studio visto che ha fatto già diverse doll ispirate ai fumetti ma comunque sembra sapere il fatto suo da questo punto di vista come vedete dalle immagini un vero e proprio capolavoro o almeno così sembra essere ovviamente non sarà in diecast ragazzi sarà in plastica con queste parti ovviamente verniciate con verniciatura metallizzata ci sarà una special edition con una maschera alternativa special edition che probabilmente sarà riservata soltanto a chi preordinerà la doll in Asia oppure ai pochi fortunati che riusciranno a prenderla come vedete qui c'è una breve spiegazione sul sito di Otois del Dr. Doom che debuttò nei Fantastici 4 numero 5 nel 1962 un paio di spiegazioni stiamo parlando del Comic Masterpiece 022 e 022b per l'edizione speciale 33 centimetri e mezzo di altezza per 30 punti di snodo l'uscita è prevista fra un anno circa terzo quarto quarto del 2025 per quanto riguarda gli accessori ragazzi non mi soffermo tantissimo magari vediamo subito il resoconto come vedete nella special edition il Darkhold è una maschera alternativa in realtà saranno tre quindi le maschere perché due sono quelle di default sulla doll e per la special edition invece ci sarà una terza qualche effetto qua e là le mani intercambiabili effetti anche di fulmini e quant'altro e poi la particolarità della base di Orama come dicevo anche durante la live è che questa base che Otois ci tiene tanto a dirci che se la giriamo dall'altra parte è una figata lo stesso così dicono almeno da una parte si vedrà il nome Dottor Doom dall'altra parte invece questa sorta di gargoyle con lo standardo che ovviamente girato dall'altra parte darà lo stesso risultato io probabilmente ragazzi già ve lo dico la prenderò perché non voglio lasciarmi scappare un pezzo del genere in molti staranno pensando io aspetto quella del Dottor Doom interpretato da Robert Downey Jr. quando uscirà il film però in questo caso ragazzi secondo me ci sarà da aspettare davvero tantissimo e quindi innanzitutto io mi porto a casa questa ispirata al fumetto che male non fa mai ed è davvero molto molto bella secondo me poi altro pezzo completamente a sorpresa di Otois una Reishu una 2.0 del Predator Samurai una chicca particolare fatta da un artista giapponese che non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere Akaoni credo non lo so ragazzi potrei aver detto una cazzata una cavolata scusate però anche qui stiamo parlando di un pezzo incredibile un pezzo che ha suscitato il clamore di tantissimi anche in live tutti lo stanno adorando e guardate che base diorama meravigliosa con lo xenomorfo con le due katana che sono tra l'altro in diecast un headscut meraviglioso anche questo qui con una special edition probabilmente sarà preordinabile la special edition soltanto a Wonder Festival che si terrà il ricordo 2 e 3 di ottobre di questa settimana entrante e che dire ragazzi questo è veramente un gran bel pezzo da collezione un pezzo che magari in una collezione dedicata ai film dedicata ai Predator stonerà un po' perché è un pezzo a sé un pezzo un po' particolare ma ragazzi è davvero un grandissimo capolavoro base diorama come vi dicevo due tipi di mandibole differenti si può mettere o meno la maschera anche da samurai così come l'elmo da samurai varie le katana che sono in diecast mani intercambiabili e la base ve lo ripeto ragazzi che è bellissima con questo xenomorfo e la possibilità appunto come vedete di andarlo a prendere dalla bocca insomma ed è fighissimo non mi soffermo troppo sui dettagli ragazzi vi basti sapere che il preordine di questo Predator Samurai non è ancora uscito così come questo di Spider-Man che vedremo fa un istante e quello del Doctor Doom presumibilmente quello che sto pensando io lo presenteranno il preordine al Wonder Festival questo è un periodo un po' particolare proprio perché si sta avvicinando al Wonder Festival quindi si vuole creare tanto hype per questo evento che è comunque uno dei più importanti se non il più importante per quanto riguarda il panorama delle 1 a 6 ma delle action figures in generale soprattutto dal punto di vista asiatico ragazzi di Shanghai di tutto il mercato asiatico quindi secondo me ancora non si sanno i prezzi ma usciranno proprio nei prossimi giorni parlando proprio di Spider-Man finalmente una nuova versione di Spider-Man di Garfield chiedo scusa da The Amazing Spider-Man anche qui una versione standard una versione deluxe una versione special un vero e proprio capolavoro guardate l'Headsculpt che all'inizio non mi convinceva particolarmente poi più lo guardo più invece mi piace il body è stato completamente ridefinito sono uscite anche delle immagini ultimamente online che dimostrano quanto The Amazing Spider-Man questo nuovo sia cambiato sia dal punto di vista delle proporzioni un body completamente rifatto e finalmente con le proporzioni che sono quasi perfette sapete che andiamo sempre a vedere il pelo e anche un po' più alta la doll rispetto alla versione precedente versione di No Way Home intendo come vedete bellissimo anche l'Headsculpt molto molto figo non mi convince il fatto che ci siano i danni da battaglia in faccia ma niente assolutamente niente sulla tuta però sono dettagli per la versione special avremo un paio di occhi intercambiabili in più e poi anche il flash per la fotocamera per la versione deluxe invece avremo anche questa base diorama base diorama che a me personalmente non interessa tantissimo in questo caso occuperà diverso spazio però è sempre molto interessante mi interesserà soprattutto andare a vedere quelle che sono le fattezze dei materiali del costume vediamo un secondo quelle che sono le specifiche di questo Amazing Spider-Man Movie Masterpiece 772 772b per la versione special 30 cm di altezza 30 punti di snodo anche questo Spider-Man è previsto per il terzo quarto quarto del 2025 quindi dovremo aspettare un anno non mi soffermo tanto ragazzi sugli accessori proprio oggi ci sono tantissime cose di cui parlare ma comunque l'avete visto c'è lo skateboard la fotocamera mani intercambiabili lo zaino e davvero poco altro se non mi sbaglio sono tutti qui ovviamente le solite ragnatele le solite cose i soliti accessori che troviamo nei comunissimi Spider-Man adesso andiamo avanti invece molliamo un attimo Hot Toys per andare a vedere quelli che sono degli annunci fenomenali da parte di Inart innanzitutto ragazzi devo comunicarvi ma già lo saprete è stato rilasciato Superman di Inart ed è davvero ragazzi un capolavoro abbiamo visto in live e vi invito nuovamente a recuperarla abbiamo visto tutti insieme il primo unboxing dal sito ufficiale Inart dal Facebook ufficiale Inart il primo unboxing di questa doll ed è uno spettacolo per gli occhi alcuni stanno criticando delle piccolezze come sempre c'è sempre qualcuno che critica ma vi assicuro ragazzi che è davvero un grandissimo capolavoro è stato rilasciato quindi a un anno esatto dal suo annuncio avvenuto circa appunto a settembre del 2023 quindi tutto fatto secondo i tempi tutto fatto a regola d'arte sono già partite delle prime copie ci sono già i primi video unboxing io sto aspettando la mia quando arriverà ovviamente ragazzi la porterò sul canale questa è stata quindi anche la settimana di Inart che dopo Superman si è data un grandissimo da fare annunciando appunto che ci sarà un bel po' di roba al Wonder Festival quindi questo questo evento ragazzi lo stiamo aspettando io prima di tutti lo sto aspettando davvero come la manna dal cielo qui intanto vediamo il video unboxing del Superman di cui vi stavo parlando ma non mi posso soffermare più di tanto ragazzi in arte annuncia anche il nome della nuova linee di doll di Action Figures in scala 1 a 12 di cui avevamo già avuto un assaggio durante il San Diego Comic Con e la fiera di Hong Kong non so se ricordate quelle 1 a 12 che aveva presentato con Catwoman c'era anche Batman c'erano un po' di figure e sembravano dalla qualità davvero davvero eccezionale poi andiamo avanti con un altro annuncio sempre di Nart che è finalmente il Nazgul il Nazgul che si vociferava ormai da un po' di tempo probabilmente fosse proprio dall'anno scorso se non mi sbaglio Nazgul che qui vediamo in un'immagine vediamo un po' tutto scuro ma spero che la vediate in un'immagine a cavallo il preordine di questo Nazgul sempre in scala 1 a 6 a continuare la wave dedicata al Signore degli Anelli quindi a Gandalf e Aragorn che sono le doll uscite fino adesso il preordine inizierà il 2 di ottobre del 2024 quindi conciderà con il primo giorno di Wonderfest così come l'annuncio forse il più aspettato almeno da me di Legolas anche lui si vociferava ormai da un po' di tempo che sarebbe uscito e anche per lui 2 ottobre 2024 per il preordine intanto vediamo un'immagine Tease così come quella del Nazgul guardate che meraviglia anche qui c'è stato chi ha voluto criticare questa opera d'arte ma ricordiamo che sono prototipi che prima che uscivano ragazzi verranno ridefiniti sistemati e migliorati ovviamente in tutto e per tutto come è stato fino adesso quasi più o meno sempre quindi ragazzi io sinceramente non vedo l'ora dalla qualità sembra essere davvero un pezzo incredibile e non vedo l'ora di andare ad arricchire la mia collezione dedicata al signore degli anelli soprattutto in art annuncio di oggi io registro di sabato ragazzi ormai lo sapete altro annuncio sempre da parte di in art ovvero una 1 a 6 di Wukong dal Black Meat Wukong il videogioco uscito recentemente su Playstation 5 e sarà anche questo sembra almeno da questa tease da questa immagine un vero e proprio capolavoro non ci resterà che aspettare per tutte queste novità e molte altre ancora il Wonder Festival del 2 e 3 ottobre quante volte avevo detto Wonder Festival in questo video non lo so ragazzi vi sfido a contarle e fatemelo sapere qui sotto nei commenti poi sempre a proposito di Wonder Festival quindi segnate più uno proprio Blitzway ha dato la sua scaletta di quelle che saranno le doll che le doll l'estate quello che sarà che farà vedere all'interno del Wonder Festival segnate un'altra volta salutiamo la vicina intanto che fa il casino e tra le 1C scale come vedete ci sono i Ghostbusters e tante altre cose c'è anche la DeLorean da Back to the Future quindi ragazzi appunto non vedo l'ora di vedere di cosa si tratta c'è già appunto chi grida al oddio oddio ho comprato ho recuperato i Ghostbusters della Blitzway e l'ho pagati un casino qui staremo a vedere se saranno delle ristampe cosa che sinceramente dubito un po' di quei Ghostbusters oppure se sarà qualcosa di nuovo non posso soffermarmi più di tanto ragazzi ma fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa pensate di questa cosa e che cosa sperate che Blitzway riveli con questi Ghostbusters facciamo come sempre un salto sul colosso dei nerd prima di chiudere dove c'è sempre tanta tanta roba ragazzi io non so mai da dove cominciare perché la roba è sempre tantissima vedete diverse action figures dedicate a Beetlejuice e la mania dei Beetlejuice praticamente si trova in qualsiasi versione in qualsiasi scala in qualsiasi modo ragazzi quindi date un'occhiata come al solito Batman questa fantastica attacco un titan di Annie e poi tanta altra roba ragazzi che vi consiglio di vedere su ilcolosso di nerd punto com ora ragazzi spero spero che il video vi sia piaciuto non ho idea di quanto sia durato perché sono andato veloce come un treno spero di non avervi annoiato di aver fatto più o meno una panoramica a 360 gradi di quelli che sono stati gli annunci di questa settimana come vedete tantissima tantissima roba perché appunto ci si prepara al Wonder Festival che ci sarà in questa settimana entrante sarà un'altra settimana delirio con tantissimi nuovi annunci tantissime nuove scoperte e ovviamente la vivremo insieme io il 3 di ottobre probabilmente molto probabilmente sarò al Romics quindi se qualcuno di voi sarà presente ragazzi penso di essere abbastanza riconoscibile venite a salutarmi che ci facciamo due chiacchiere insieme e quindi cercherò anche se dal Romics cercherò più o meno di seguire quelli che saranno gli annunci e poi ovviamente ragazzi faremo un resoconto domenica con il nuovo video news della settimana detto questo ragazzi io vi saluto vi auguro di nuovo buona domenica fatemi sapere sempre qui sotto nei commenti adesso lascio la palla a voi quindi fatemi sapere cosa pensate di tutto questo cosa vi interessa di più cosa meno cosa pensate di preordinare se avete fatto avete avevate preso i fantastici i fantastici 4 i ghostbusters dei che sono comunque 4 fantastici lasciamo perdere comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti e parliamone un pochino e poi ci vediamo con i prossimi appuntamenti che saranno con i soliti unboxing qualche short e poi la prossima settimana iscrivetevi se vi va se vi è piaciuto il video se vi è piaciuto il canale non ce la faccio più a parlare sto per andare in tachicardia buona domenica ciao ragazzi a presto